MicroStrategy ha appena sbloccato il trucco dei soldi infiniti e in questo video ti mostro esattamente come replicarlo. Ma prima di tutto devo fare un disclaimer. Infatti in questo video parleremo di prestiti ancora una volta e i prestiti sono un po' come il fuoco. Puoi utilizzarlo per cucinarti da mangiare e sopravvivere o tipo bruciare la cava. Quindi fai veramente estrema attenzione, analizza, studia per conto tuo bene tutto ciò che ti sto per mostrare in questo video e documentandoti anche con altri materiali che puoi trovare tranquillamente su google. Quindi studia, 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 analizza e fai le tue dovute analisi. Ovviamente in questo video non voglio darti un consiglio finanziario ma voglio studiare, analizzare insieme a scopo didattico quella che è stata la strategia di MicroStrategy e il come possa essere applicata anche in più piccolo da noi. Ti avviso che entreremo estremamente nel dettaglio a livello tecnico. Cercherò, ti prometto di rendere il tutto in un linguaggio chiarissimo, semplice e trasparente. Ci ho messo mesi per analizzare bene la figura di Sailor, la figura di MicroStrategy, il come si è posizionato, il capire il come e dove va a prendere i prestiti. Quindi c'è veramente un mondo dietro che ho cercato di racchiudere all'interno di questo video in modo da renderti più semplice, più comprensibile e risparmiarti mesi di lavoro. Quindi se sei pronto partiamo subito. L'azienda di Michael Sailor, MicroStrategy, ha appena sbloccato un glitch, un trucco che ha trasformato 3.9 miliardi di dollari di debiti in 15 miliardi di dollari di valore in bitcoin e il tutto in appena 4 anni. La cattiva notizia è che è difficile per noi replicare bene al 100% quella che è la strategia di Sailor a meno che non siamo anche noi quotati in borsa. La buona notizia è che ci sono delle strategie e delle soluzioni per farlo in piccolo, quindi che possiamo applicare fin da oggi nel nostro piccolo. E in questo video ti mostro esattamente come farlo, quindi seguimi fino alla fine. Cosa vedremo dunque in questo video? Beh l'esatta strategia utilizzata da MicroStrategy, il come l'ha creata, come l'ha pensata e il perché, quindi entreremo veramente a fondo di tutta quella che è la strategia appunto di MicroStrategy. Due, che cos'è esattamente questo trucco dei soldi infiniti e come utilizzarlo a nostro vantaggio. E tre, se c'è ancora tempo per farlo e soprattutto come farlo. Quindi resta com'è fino alla fine perché il video sta per diventare estremamente interessante. Quindi concentrati, spegni le notifiche perché parleremo un pochino a livello tecnico, non troppo, te lo prometto, vedremo tanti dati, vedremo tante analisi, quindi ci vorrà il massimo del focus per comprendere appieno quello che ti sto per mostrare. Michael Saylor non è da sempre fan di Bitcoin, infatti nel 2013 reputava Bitcoin essere una scam, una truffa, un ponzi se vogliamo, o comunque una scommessa che non sarebbe durata tanto. Ma nel 2020 ha sorpreso tutti acquistando 17.000 Bitcoin e da lì in poi ha iniziato ad accumulare costantemente Bitcoin diventando una delle più grandi aziende MicroStrategy a possedere Bitcoin. Che cosa è cambiato nella sua mente? Che cosa l'ha portato a voler spingersi così oltre? A investire addirittura indebitarsi per acquistare Bitcoin? Lo vediamo tra poco. Prima però entriamo nel vivo della strategia, cioè capiamo a livello tecnico come funziona il glitch dei soldi infiniti, il trucco dei soldi infiniti. Ciò che si sa, per sentito dire un po' qua sui vari video o interviste cose, è che Michael Saylor utilizza il prestito per comprare Bitcoin. Però non si è mai andato a scavare tanto a fondo, almeno da quello che ho visto io qua su YouTube. Questo perché probabilmente richiede tanti sforzi, tante energie per farlo. Beh io mi ci sono messo lì e l'ho fatto. E a proposito di prestiti ho parlato proprio in queste settimane di una strategia che ti permette di utilizzare Bitcoin per creare cash flow e come se non bastasse anche tax free. Ne ho parlato nel dettaglio in questo video qua, te lo lascio qua sotto nei commenti. E poi ho parlato a livello tecnico di come fare in quest'altro video. Anche questo te lo lascio qua sotto nei commenti. Prima di guardare questo video ti esorto a guardare questi altri due video, in modo che ci sia poi un flow che sia tutto connesso e sarà molto più facile andare ad unire tutti i puntini. E a questo video seguirà un altro video ancora più nel dettaglio dove andremo a vedere su fogli di calcolo esattamente come funziona questa strategia, come può funzionare e come utilizzarla. Quindi se ti interessa questo video scrivimelo qua sotto nei commenti. Uscirà penso le prossime settimane. Bene dunque numero uno come funziona la strategia di MicroStrategy. Come fa a prendere in prestito Bitcoin? Non è rischioso? È un asset troppo volatile? Se si brucia? Se va a zero? Cosa succede? Sì è rischioso ma MicroStrategy sa come gestire il rischio e questa è la prima cosa importante. Quando si parla di prestiti, quando si parla di strategie di questo tipo non si tratta di aprire un prestito a caso ma si tratta di ingegnerizzare in modo estremamente preciso il debito per fare in modo da proteggersi ovviamente nei downside quindi nel caso in cui le cose andassero male. Dal 2020 abbiamo detto ha accumulato quasi 4 miliardi di debiti quindi 3.9 miliardi se vogliamo essere precisi e adesso quei 3.9 miliardi, quei quasi 4 miliardi di dollari di debito si sono trasformati in 15 miliardi di dollari in Bitcoin. Quindi ha quasi fatto un per quattro in quattro anni. Come funziona la strategia? Facciamo due calcoli. MicroStrategy non sta utilizzando ovviamente il debito a cui possiamo accedere tutti noi tipo mutui, finanziamenti, carte di credito, queste cose qui ma sta utilizzando un debito particolare anzi in realtà due debiti particolari. Facendo gioco su che cosa? Su quello che si chiama mercato di convertibilità dell'equity. Come funziona il mercato di convertibilità dell'equity? È molto semplice. Sostanzialmente Michael dà in garanzia le proprie equity quindi le azioni della propria azienda microStrategy per ottenere denaro con un interesse ovviamente da pagare. Se non riuscisse a ripagare il prestito con gli interessi sostanzialmente verrebbero convertite, ecco perché il mercato di convertibilità, verrebbero convertite le azioni in liquidi, in cash da parte delle emittenti finanziarie, dalle banche, che quindi si tengono le azioni, le convertono, rientrano dei soldi e, chiuso, fine, hanno estinto il debito. Quindi lui sta facendo leva sulle sue azioni. Ma questa è una cosa che abbiamo già visto tante volte fare anche a personaggi come Elon Musk per lanciare tutte le varie company e le varie idee che ha. Non è quindi una strategia nuova, è una strategia già utilizzata. Il gioco qui è però applicarla a bitcoin. Poiché MicroStrategy è una società quotata in borsa, può utilizzare le proprie azioni come garanzia per ottenere prestiti. E questo la maggior parte di noi, a meno che non abbiamo delle aziende quotate in borsa, ovviamente non può farlo ed ecco perché diventa difficile replicare nel privato e nel piccolo questo tipo di modello, anche se ci sono delle soluzioni che vediamo tra poco. Il grande vantaggio è che può accedere a prestiti a tassi veramente ridicoli. Di che tassi stiamo parlando? Di tassi che oscillano tra uno 0,8 e un 1,76%. Direi che è abbastanza difficile per noi trovare tassi di questo tipo. Teniamo conto che in realtà utilizza due debiti, non entrerò nel dettaglio perché altrimenti questo video diventa veramente troppo lungo, però uno di questi ha un tasso medio dell'1,76% annuale da pagare come interesse, mentre l'altro dello 0,8. Non so esattamente di questi 3,9 miliardi quanti siano con un tasso dell'1,76 e quanti invece siano con un tasso dello 0,8. Quindi ipotizziamo comunque che il numero medio stia appunto in una media che va tra lo 0,8 e l'1,76, però per questo video ipotizziamo che siano tutti 3,9 miliardi con un tasso di interesse dell'1,76%. Così abbiamo un worst case scenario, cioè un massimo interesse pagabile, anche se sappiamo che in realtà paga meno, però teniamoci conto questo perché ci rende comunque il tutto anche semplice a livello di calcolo per capire quanto è l'interesse che deve pagare e poi come viene gestito. Quindi cosa fa Sailor? Molto semplicemente dà come garanzia le azioni, queste qua sono le azioni di microstrategy, ottiene del denaro con un interesse che oscilla tra uno 0,8 e l'1,76% di interessi. Ha preso così 3,9 miliardi di dollari con questo interesse annuale da pagare. Andiamo quindi a capire di quanto stiamo parlando. Beh, stiamo parlando, utilizzerò un calcolatore per la rata del mutuo, non è proprio la stessa cosa, però è quello che ho trovato per rendere le cose più semplici. Abbiamo detto un importo di prestito preso da Michael di 3,9 miliardi. Eccolo qua. Con un tasso di interesse annuale teniamoci l'1,76%. La durata, ipotizziamola, annuale, così so esattamente in un anno quanto interesse deve pagare. Beh, facciamo il calcolo. vediamo che in un anno l'interesse da pagare, eccolo qua, è di 68 milioni e 640 mila dollari. Quindi a fronte di 3,9 miliardi presi in prestito, l'interesse, quell'1,76, è di 68 miliardi. Ovviamente se si va a diluire nel lungo termine, ipotizziamo per esempio in 10 anni, l'interesse annuale parte con 68 miliardi e poi va via via a scalare. Però questo è un altro paio di maniche, ipotizziamo semplicemente questo tasso dell'1,76 e per capire di quanto si è indebitato. Quindi stiamo parlando di 3,9 miliardi con degli interessi da pagare di 68 milioni. Da quando però Michael Saylor ha iniziato questa strategia, Bitcoin è salito. È salito con una media negli ultimi 4 anni del 55% annualizzato. Se ci teniamo un orizzonte più ampio di 5 anni, in modo da poter analizzare qua bene su grafico, andiamolo a vedere. Eccoci qua, vediamo quanto ha reso mediamente nei 5 anni. Qui purtroppo non si può mettere un rendimento di 4 anni, ecco perché ho preso i 5 anni, però Michael Saylor ha iniziato nel 2020, quindi ora sono 4 anni. Negli ultimi 4 anni il rendimento è stato medio del 55% annualizzato. Qua vediamo invece negli ultimi 5 anni il rendimento è di circa un 50% annualizzato. Facendo questo calcolo noi abbiamo un'entrata di dollari con un interesse da pagare, facciamo finta dell'1,76%. Questi dollari sono stati convertiti in Bitcoin che ha avuto una rendita media annuale del 50% negli ultimi 5 anni. Quindi fai 50-1,76% significa 48% circa annualizzato di rendita pura. A partire da quell'investimento lì, ed esclusi gli interessi. Se poi andassimo ad analizzare invece gli ultimi 4 anni il rendimento sarebbe un 55% meno l'1,76% siamo intorno ad un 52-53% netto di flow in positivo. Questo gioco si basa proprio su un concetto e il concetto è che le valute fiat tendono a svalutarsi, quindi perdono di valore. Il dollaro, l'euro sono progettate per essere inflazionate, quindi stampate, di conseguenza cala il loro valore e l'idea di Sailor è stata quella proprio di utilizzare in leva il fatto che il valore delle valute fiat cali per poter acquisire asset che secondo lui invece dovranno per contraposizione andare ad apprezzarsi. Il 14 settembre 2020 Sailor ha acquisito i suoi primi 17.000 bitcoin. Parliamo di un prezzo di circa 775 milioni di dollari. È passato dal 2013 a dire che era una truffa al 2020 ad essere uno dei suoi più grandi sostenitori, quindi qualcosa è cambiato. Perché però Sailor ha deciso di fare questo pivot, quindi di spostarsi, di cambiare totalmente la sua prospettiva. Beh, perché le cose a microstrategy non è che stessero andando benissimo, ma non che fosse in crisi, ma semplicemente bisogna prendere atto di ciò che è la società di Sailor. La società di Sailor è una software house, se vogliamo, molto grossa, ma quello è, cioè producono dei software. Ora abbiamo un vantaggio e uno svantaggio in questo tipo di attività. Il vantaggio è che abbiamo cash flow costante, quindi abbiamo costantemente delle entrate che ci portano soldi in tasca e che quindi noi possiamo utilizzare poi per reinvestire, per fare quello che vogliamo. D'altra parte però c'è lo svantaggio, che bisogna costantemente investire in ricerca e sviluppo e tutta questa roba qui per poter innovare. Perché ricordiamo quello della tecnologia, del software è una strada, è una via estremamente in crescita e che cresce molto velocemente e star lì dietro non solo è complesso, perché significa innovare, dover costantemente imparare e creare cose nuove, ma contemporaneamente anche dispendiosa. Quindi è vero che ci produce un cash flow gratuito, perché io per esempio ti do in abbonamento il mio software e l'ho creato una volta, ma poi continua a produrmi costantemente cash, ma è anche vero che devo rimanere al passo con i tempi e questo è estremamente dispendioso. Ora, facendo due conti, MicroStrategy era seduto su un cash costante, su tanti soldi che entravano e che bisognava fare qualcosa, perché più soldi ti entrano, più denaro hai, più il peso dell'inflazione aumenta. Non in termini percentuali, ma in termini quantitativi, perché un denaro che si svaluta al 10% in un anno, se su mille dollari è un conto, su un miliardo è un altro. Ed è proprio qui che è nata l'idea di utilizzare il debito a proprio favore. Ma andiamo a comparare un attimo la crescita di Bitcoin rispetto a tutti gli altri asset, cioè perché ha scelto Bitcoin. E ora andiamo a fare una comparativa e confrontiamo Bitcoin ad altre asset class. Per esempio potremmo metterci l'SP500. Questo per capire come si è mosso Bitcoin rispetto ad altre asset class. mettiamo l'SP500, mettiamo per esempio il gold se vogliamo, l'oro, mettiamo l'argento, mettiamo il Nasdaq, eccolo qua. Allora possiamo vedere chiaramente qua nel grafico, penso che non ci sia niente altro da aggiungere, qua vediamo Nasdaq e tutti gli altri e qua sopra vediamo Bitcoin. Ora metto il grafico logaritmico perché altrimenti così è tutto piatto perché Bitcoin ha un valore monetario maggiore. Quindi mettiamo un grafico logaritmico ed ecco come sono le rese. Abbiamo visto quindi Nasdaq, SP500, oro e argento con questa crescita e Bitcoin con questa crescita. Quindi parliamo di volumi estremamente più elevati, cioè stiamo parlando una crescita esponenziale, molto molto più importante rispetto le altre. E sì certo con i suoi drawdown ma comunque questo è Bitcoin contrapposto al resto. E ovviamente Michael Saylor, ingegnere dell'MIT, così come il suo team MicroStrategy nell'ambito software non potevano non andare a pescare un denaro ingegnerizzato, cioè un qualcosa di particolare ma ci arriviamo tra poco. Quello che hanno fatto non è stato però solo utilizzare no Bitcoin come riserva di valore, quello che si fa in generalmente, quello che si chiama edge, io ho delle entrate come azienda, compro degli asset per proteggermi. No, Saylor ha pensato insieme a MicroStrategy di ingegnerizzare la volatilità, cioè utilizzare la volatilità come prodotto, andare a sfruttare il denaro, quindi andare in leva prendendo in prestito per accumulare asset, non usare i propri asset per comprarsi Bitcoin e pararsi, ma utilizzare asset presi in prestito addirittura, quindi andato a ingegnerizzare il processo del debito. È in un modo estremamente astuto, estremamente intelligente, per quello parliamo di un qualcosa di assurdo. Nonostante sia stato criticatissimo, a livello tecnico, a livello di studio, ingegneristico, è un qualcosa di veramente assurdo e tra poco lo vediamo nel pratico, perché guardato su carta mentre te lo mostro tutto diventa estremamente più chiaro, perché quello che ha fatto MicroStrategy è stato quello di trasformare la volatilità di Bitcoin in una risorsa per lanciare MicroStrategy stessa. Quindi andiamo a vedere un attimo come ho detto su carta, perché è molto più semplice. Allora MicroStrategy ha delle azioni, queste qua sono le azioni di MicroStrategy, le shares, le azioni. Le impegna come garanzia in banca, questa qui è la banca, per ottenere che cosa? Del denaro, 3.9 miliardi in questo caso, più ovviamente degli interessi, mettiamo 1,76% di interessi. Questo denaro lo usa per comprare Bitcoin. Bitcoin che ha stimato, almeno negli ultimi 5 anni è stato così, una crescita percentuale annuale del 50%. Ciò significa che al netto di questo sono tipo 46-48% di profitto da Bitcoin, cioè profitto da questo debito che ha ottenuto Michael Saylor. Però i Bitcoin sono all'interno dell'azienda. Quindi che cosa succede? Che lui ha preso un prestito, i Bitcoin li ha acquistati con l'azienda e il valore di Bitcoin è salito, costantemente cresce anche che cosa? Il valore dell'azienda stessa. Perché cresce il valore appunto dell'azienda, perché ha, è come dire, 10 magazzini, beh in questo caso abbiamo dei Bitcoin che sono cresciuti di valore e hanno pompato anche il valore dell'azienda. Cioè questo gioco qua deve usare le proprie azioni per acquisire un debito col quale comprare Bitcoin che fa apprezzare ulteriormente le proprie azioni, dandogli la possibilità di prendere ancora più soldi in prestito, col quale acquisire ancora più Bitcoin, col quale vanno a pompare ulteriormente le proprie azioni e questo circolo qui è questo quello che io chiamo il trucco dei soldi infiniti. Ora c'è un problema e il problema è, beh, ma se Bitcoin scende giù, va a 5.000, va a 10.000, crolla, non cresce più così tanto. Cosa succede? Succede che si trova a ripagare il debito con degli interessi. Come fa a ripagarli? Ed è qui che ho detto ci sta il gioco. Michael Saylor ha un'azienda che crea software che gli danno delle entrate costanti, quindi quello che si chiama in gergo un cash flow. Bene, utilizza questo cash flow per ripagare gli interessi della banca. Quindi con i soldi che arrivano da fuori, che arrivano dall'azienda, ripaga il prestito e parliamo di 400 milioni di fatturato negli ultimi anni, ripaga il prestito. Questo prestito intanto l'ha utilizzato ovviamente per comprarsi Bitcoin, con il quale abbiamo detto salgono i valori delle azioni dell'azienda, di conseguenza anche più entrate, lato investitori che investono sull'azienda e quindi di nuovo tutto il circolo. Cioè il gioco è stato semplicemente quello di guardare da un lato un denaro chiamato fiat, che è un denaro che tende a perdere di valore e loro erano seduti su montagne, montagne di questa roba qui che si svalutava, perdeva valore, all'interno chiaramente della propria azienda, quindi delle share aziendali. Quindi le ha utilizzate per prendere che cosa? per prendere in prestito un denaro forte, cioè un denaro ingegneristico, che è appunto Bitcoin, che invece è progettato per controllare l'inflazione, ridurla all'osso e di conseguenza è un denaro in grado di battere il denaro fiat, per tutta una serie di motivi che non ti sto a spiegare in questo caso. Quindi ha sostanzialmente utilizzato il debole per prendere il forte. Man mano che il debole scende il forte aumenta di valore e qua in mezzo si posiziona lui con le sue shares andando in leva. Quindi ha pensato questo sistema non come edging ma proprio come leva finanziaria. Tu pensa che per ogni Bitcoin, per ogni dollaro di Bitcoin che Saylor acquista guadagna 2 dollari di Bitcoin, perché cresce Bitcoin, quindi crescono i Bitcoin nella propria sede che possiede, ma cresce anche il valore azionario. Di conseguenza per ogni dollaro lui riesce a tirar fuori 2 dollari. E infatti se andiamo a guardare i rendimenti di MicroStrategy, andiamo a vedere magari qua contrapposti a quelli di Bitcoin, della maggior parte di azioni. Io qua ho messo Nvidia nell'ultimo anno perché ha fatto una crescita esponenziale e poi ho messo MicroStrategy e qui vedi in blu Bitcoin. Cioè questo è stato Bitcoin, la sua crescita è stata questa. Quindi stiamo parlando di un 103%. Vediamo Nvidia ha fatto un 215%, ma MicroStrategy ha fatto un 426%. Una crescita estremamente più importante, una crescita senza precedente rispetto a tutti gli altri e quattro volte superiore a quella di Bitcoin stesso in questo caso. Poi se si va a vedere, si fa zoom out, si guarda più nel lungo termine, ovviamente Nvidia ha una crescita un po' più alta, però MicroStrategy sta difendendo veramente molto bene e siamo più o meno a un per due rispetto Bitcoin. Quindi acquistare azioni MicroStrategy significa andare in leva su Bitcoin. In leva nel bene, perché i prezzi salgono e ci porta più denaro in cassa, ma anche nel male, perché significa avere un asset estremamente più volatile. Vediamo i cali di Bitcoin rispetto ai cali di MicroStrategy. Quindi abbiamo il pro e il contro e qui vado a rispondere alla domanda. Ovviamente non ho messo SP500 perché sarebbe ridicolo da paragonare. Se vado a mettere il nostro SPY, lo vado a mettere... e siamo qua. Quindi insomma lasciamo stare. Ovviamente non ha senso in questo caso andare a paragonarlo. Ora, come possiamo rubare questa strategia e applicarla ovviamente per noi, nella nostra vita quotidiana. Ma prima di rispondere a questa domanda voglio rispondere a un'altra domanda che in tanti mi stanno facendo. Vale allora di più la pena comprare azioni di MicroStrategy o i Bitcoin? Perché se Bitcoin si muove ad una certa velocità e MicroStrategy si muove ad una velocità doppia, quindi mi permette di fare molti più rendimenti, allora tanto vale comprare MicroStrategy. Tra l'altro giova di regolamentazioni diverse, quindi bene o male è accessibile a chiunque, mentre Bitcoin in certi casi può non essere accessibile o ha delle tasse più alte. Insomma ci sono tutta una serie di dinamiche che non andiamo ad approfondire. Quindi conviene più uno, conviene più l'altro. La risposta dipende. Primo, comprare Bitcoin significa esporci ad una crescita percentuale importante? Sì, dipende poi perché domani tu non sai come andrà Bitcoin, c'è sempre il rischio, ecco perché dico sempre di fare estrema attenzione, ma la volatilità di Bitcoin è dimezzata rispetto alla volatilità di MicroStrategy. Cioè MicroStrategy cresce nel doppio di Bitcoin, sì, ma è anche il doppio più volatile. Quindi abbiamo i pro e i contro come per ogni cosa. Si può utilizzare, ma comunque con le dovute precauzioni. E ricordiamoci anche sempre la struttura stessa di Bitcoin. Cioè un conto esporsi su Bitcoin a livello investimento, allora sì, ha molto più senso comprare MicroStrategy perché cresce molto di più e rispetto a un ETF magari non hai costi di servizio, non hai tutta una serie di rotture di scatole, è custodito tutto da MicroStrategy e va bene. Però hai in contrapposizione comunque un'alta volatilità e quindi tutto un sistema costruito, un castello costruito sul debito, che come sappiamo potrebbe da un giorno all'altro cadere. Anche se hanno ingegnerizzato molto bene, parliamo di un'azienda quotata in borsa estremamente grossa, insomma non sono gli ultimi arrivati che si sono inventati così di farsi bruciare. Anche questo è da tenere in considerazione, chiaramente. D'altra parte abbiamo un denaro, Bitcoin, molto particolare, che gode di tantissime funzionalità, tantissime cose estremamente interessanti e quindi può essere interessante possederlo realmente. Ecco perché dipende dalla tua visione. Personalmente preferisco possedere Bitcoin piuttosto che acquisire ETF o espormi ad altro. Può essere interessante anche utilizzare le azioni di microstrategy, visto che crescono a una velocità doppia rispetto a Bitcoin, per ottenere dei Bitcoin. Anche qui potrebbe essere una soluzione. Però visto che abbiamo accennato di soluzioni, cerchiamo di capire come poter utilizzare questo glitch, questo trucco dei soldi infiniti a nostro favore. Ovviamente io e te, molto probabilmente, a meno che non abbiamo delle aziende quotate in borsa, non possiamo accedere a tassi di interesse così bassi. Ci si può avvicinare con qualche piattaforma, ma con dei rischi chiaramente sempre più elevati rispetto che prenderli da un istituto finanziario tradizionale. E non possiamo neanche dare in garanzia i titoli delle nostre aziende, se sono aziende tradizionali non sono aziende quotate in borsa. Quindi ci sono sempre dei pro e dei contro. Accedere al credito, accedere ad un debito così poco costoso, vale solo per alcune entità. Alcune soluzioni potremmo utilizzare, ne ho già parlato in diversi video, c'è per esempio Nexo, che è una società attiva dal 2018 e ad oggi estremamente solida, che permette di ricevere prestiti a partire da un collaterale che possiamo dare in denaro, quindi in stablecoin, USDT, USDC e così via, o in cripto, bitcoin e qualsiasi altra cripto. Quindi potenzialmente io posso prendere i miei bitcoin, portarli su Nexo, ottenere da esso un prestito, con il quale andare in leva e comprare altri bitcoin da riutilizzare ovviamente di nuovo come garanzia e così via. Ora, in questo caso quali sono i rischi? Parliamo prima di rischi. I rischi sono Nexo chiude, io perdo i soldi. Quindi questo è un rischio molto importante che bisognerebbe considerare e su cui bisognerebbe porre la propria attenzione. È vero che si è dimostrata fino adesso solidissima, ma è anche vero che non possiamo al 100% dire che continuerà ad esserlo. Quindi in questo caso io ho quello che farei su Nexo e approfondiremo ulteriormente questo video con dati tecnici, quindi con fogli di calcolo in un appunto prossimo video e mettere per esempio dei bitcoin come garanzia su Nexo e ottenere un prestito in per esempio USDT con il quale andare a ricomprare altri bitcoin. Quindi ottengo un prestito con il quale compro altri bitcoin che vado a rimettere di nuovo qua, me li porto fuori, vedremo tutti i casi possibili e in termini numerici a che cosa si può andare incontro facendo dei backtest. Quindi sarà un video estremamente dettagliato perché altrimenti qua sforeremo le due ore. Questo ci espone allo scenario negativo, Nexo chiude, io ho perso i miei bitcoin, mi sono tenuto i dollari a meno che non li ho utilizzati per ricomprare bitcoin da rimettere qua dentro, quindi sono andato in perdita e ciao. Sì, entra in gioco da tutta la questione del curatori fallimentari come è successo per FTX e così via, prima o poi te li pagheranno, probabilmente sì, però nel frattempo tu hai perso i tuoi soldi, punto. Questo è un rischio veramente importantissimo da tenere in considerazione. D'altra parte il pro è che io sto utilizzando in leva il sistema simile a quello di Michael Saylor, però anziché utilizzare le azioni uso bitcoin stesso, cioè con un tasso di crescita ipotizzando ovviamente nessuno alla sfera di cristallo per dire che sarà ancora così, ma ipotizziamo anche solo di dare bitcoin e prendere indietro un 20% del mio holding, quindi io do un bitcoin, metto uno come cifra simbolica per semplicità di calcolo, io metto un bitcoin al 20% di prestito in dollari, significa che posso prendere 0,2 BTC, posso ricomprare 0,2 BTC con questo gioco qua, che vado a rimettere qua. Quindi io qua salgo a 1,2 BTC e tu devi vedere sempre il controvalore. Se bitcoin mi sale di una media del 20% annuo, il valore ipotizziamo qua di 100€, io ho messo 100€, ho preso in prestito 20€ con cui ho ricomprato BTC, a questo punto se mi sale del 20% vuol dire che qua io ho 120 più questi 20 che anche loro a loro volta si sono apprezzati, quindi da 100€ passiamo con bitcoin a 120€ per bitcoin da moltiplicare per 1,2 che è la mia quantità, quindi è salito anche qui e di conseguenza questo 20% si è abbassato, quindi posso prendere in prestito ancora qualcosina, di nuovo da riutilizzare per ricomprare bitcoin e fare questo giro qua. Interessi da pagare dipende, dipende dal livello sul nexo, mediamente sul platinum, quindi livello più alto, parliamo di un interesse che va tra un minimo se prendi un 20% rispetto al collaterale massimo che dai di 2.9%, quindi un 3% circa e il massimo mi pare sia il 5.9%, se sei livelli più bassi invece si arriva anche a un 16% o 17%, quindi troppo alto questa roba qui non va bene, a meno che non vediamo un bitcoin che continua a salire di un 50%, ma anche questo diventa improbabile, quindi bisogna fare bene i calcoli, ecco perché avremo un video dedicato su questo, però questa qui era per darti un'idea a livello logico di questa roba qui, di questo gioco che abbiamo visto. Io però non voglio espormi a nexo, io voglio acquistare i miei bitcoin, detenerli e non prenderli appunto da nexo, voglio passare per i circuiti tradizionali, quindi le banche. Ora ovviamente non posso andare in banca e dire guarda questa qui è la mia ledger, qua dentro ci sono i miei bitcoin, te lo do e tu mi dai un prestito. No, non si può ancora fare oggi, magari un giorno si potrà fare. Stesso gioco, cioè comunque stiamo andando a dare dei fondi in custodia a un ente finanziario, che però rispetto a un'azienda privata come nexo ha delle garanzie in più se vogliamo, quantomeno nel caso in cui ci fossero problemi fallisse, probabilmente ci sarebbe un intervento un po' più importante rispetto al classico intervento che si può avere con un'azienda o un exchange che fallisse. Però io potrei fare lo stesso, ripeto, non è un consiglio finanziario, fare dovute analisi, utilizzando i servizi tradizionali. I servizi tradizionali quali sono? Beh, abbiamo per esempio il mutuo, quindi io vado a prendere il mutuo, oppure finanziamenti per automobile, per cose varie, posso semplicemente pagare meno, andando a ristrutturare il mutuo, ovviamente, fare tutto quello che c'è a fare, non è che dico no, non ti pago la rata, mi compro il bitcoin, no, c'è da fare chiaramente un gioco dietro, c'è bisogno di contrattare e una parte di questi fondi utilizzarli per comprare per esempio bitcoin. Di nuovo non è un consiglio finanziario, è di nuovo fai le tue dovute analisi, io ti sto mostrando a scopo didattico come si potrebbe replicare nel mondo nostro più in piccolo quella che è la strategia di sailor, ma ciò non vuol dire che si debba fare per forza, ognuno può fare poi quello che vuole, ognuno fa quello che vuole con il proprio denaro. Oppure, in modo più semplice, si potrebbe utilizzare le carte di credito, le credit card, quelle reverse, quelle che ti danno accesso al credito e tu quindi puoi utilizzare la tua carta di credito su un qualsiasi exchange per comprarti bitcoin, per esempio lo puoi fare su Nexo stessa, ti compri i tuoi bitcoin, te li porti fuori se vuoi, te li porti su un hardware wallet che vuoi e poi con le tue entrate, il tuo cash flow, vai a ripagare gli interessi e il debito che hai contratto con la carta di credito. Quindi stai utilizzando il debito per acquisire bitcoin, sì, utilizzando un sistema tradizionale, che quindi ti dà un prestito tradizionale con degli interessi che sono più alti magari rispetto a quelli di Nexo, perché parliamo di interessi che arrivano fino al 26%, dipende poi con che cosa lo fai, con che cosa lo contrai e per quanto tempo, però tendenzialmente puoi usare questo sistema, quindi carta di credito, bitcoin, il tuo cash flow, quello che ti entra di cassa tua, lo riutilizzi per pagare gli interessi e intanto ti metti in portafoglio bitcoin utilizzando in leva il debito. Ma in che senso io potrei direttamente comprare bitcoin senza assi o i soldi per farlo, senza passare per le carte di credito? Sì, ma qui stiamo parlando non della quantità di soldi fissa, ma stiamo parlando di cash flow, cioè se io ho 10k in tasca, io posso scegliere se con questi 10k comprare bitcoin oppure tenermeli in tasca e chiedere un prestito alla banca, qui mettiamo la carta di credito, di 10k per prendere bitcoin. Quindi che senso ha? Se io ho 10k tanto vale comprare, è inutile pagarci interessi sopra. Il senso è che questi 10k non li uso per andare a bere il sabato sera, ma li utilizzo per creare altre entrate, quindi anziché tenerli immobilizzati io li uso e contemporaneamente però utilizzo il prestito per comprare bitcoin. Questi soldi si suppone che se io sono in grado di gestirli, di usarli bene, mi porteranno più entrate in tasca. Più entrate in tasca significa un cash flow maggiore che mi va a ripagare il debito. E questo è il gioco, cioè utilizzare in leva il debito proteggendosi in caso di evento negativo perché so che io ho del flusso di cassa tale da poter sopperire a questi debiti che vado a contrarre, ma contemporaneamente usarli in leva per costruirmi il mio rifugio, tra virgolette, che sei in bitcoin, che sei in oro, che sei in qualsiasi cosa, ma accumulare asset. Questo è per rendere le cose un po' più pratiche, un po' più tecniche, quindi anche noi possiamo effettivamente utilizzarlo sia lato aziende come Nexo, qua sotto ti lascio il link se ancora non l'hai provato, io la uso da ormai 5 anni e mi sto trovando veramente benissimo, non ho mai avuto alcun tipo di problemi, però mi rendo conto chiaramente del rischio associato, quindi sono consapevole e mi muovo di conseguenza. D'altra parte puoi usare anche il sistema tradizionale con qualche piccolo trucco e scammotage che abbiamo visto qua. In un prossimo video entreremo proprio nel dettaglio, ripeto, a livello tecnico avrò un foglio di calcolo e su questo foglio di calcolo che sto preparando vedremo su questo foglio di calcolo esattamente tutto a livello numerico, cosa succede se andiamo ad investire i nostri fondi o se parallelamente andiamo a usare i fondi di un prestito. Quindi cosa succede, come utilizzarli, come costruire quest'intera strategia su Nexo con una cifra di rischio consona al nostro portafoglio, d'altra parte a livello numerico proprio come funziona. Quindi stai con me, iscritti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina così verrai notificato quando uscirà quel video lì e nel frattempo ci saranno anche altri video estremamente interessanti con strategie tecniche che puoi utilizzare. Fammi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensi, se ti è piaciuto questo video lascia un like, ti ringrazio per essere stato qui con me, mi raccomando quando si parla di prestiti bisogna fare estrema attenzione, io qua sotto ti lascio il link di Nexo, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.